Circostanza un po' strana, ne converrei con me, no? Ci deve essere una giustificazione, Franco. Tu ne devi parlare con Calvigari. Fatto! Fatto! Ma mi ha raccontato una balla simile a quella della bambina ebrea. Mamma, tu c'eri? Tu mi devi raccontare la verità. Stai coprendo il mio padrino? No, te lo giuro, Franco. Io so solo che il padre della tua Giovanna sparì, lasciando moglie e figlie abbandonate loro stesse con il conto dell'albergo da pagare. Poi sparirono anche loro due. Signora Spada, che fai? Ucci a quest'ora con la bambina? Sì, devo andare in farmacia. La bambina non sta bene? Dopo quella volta non le vidi più. Finché una sera, e durante un pranzo di gala molti mesi dopo, Anna Spada si presentò come una pazza a casa di Caligaris. l'acusò di averle portato via la bambina e tentò di ammazzarlo. Ucciolto! Ma lo feri soltanto. Mi devi credere, è tutto quello che so. Ho abbastanza elementi per denunciare il commentatore Caligaris della scomparsa di Giordano. Non puoi! Un figlio non può mettersi contro il suo padre! Un diglio non può metterla». Ti ho detto? Lui è tuo padre. Sì.